Luce nella notte all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Arezzo, ci troviamo nella quartiere di Pescaiola, ad illuminare le stanze buie molto probabilmente i cellulari di coloro che hanno deciso di occupare abusivamente i locali dell'immobile. Da anni in stato di abbandono e degrado ed in attesa di un progetto di riqualificazione, a confermarci la presenza di alcuni inquilini abusivi anche i residenti della zona. L'ultimo sgombero ad opera della Polizia Municipale di Arezzo all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo risale allo scorso giugno. I vigili urbani avevano anche denunciato gli inquilini per occupazione abusiva di mobili pubblici in quanto l'edificio è di proprietà del comune di Arezzo. Solamente qualche giorno dopo sei persone erano tornate ad occupare abusivamente i locali di via Pisacane. Era stato così il questore di Arezzo Bruno Failla a demettere di fronte al perdurare dell'occupazione sei fogli di via obbligatori dal territorio comunale nei confronti di sei persone, due donne e quattro uomini di nazionalità gambiana, senegalese, marocchina e polacca in quanto ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tutti e sei avevano precedenti per reati relativi allo spaccio di droga e contro il patrimonio e la persona. Un problema però quello dell'occupazione abusiva che evidentemente continua a persistere.